La settima puntata del Grande Fratello ha segnato un momento di grande intensità emotiva per Enzo Paolo Turchi, che ha rivelato di essere alle prese con una crisi personale che sta mettendo alla prova il suo rapporto con Carmen Russo Non sono Superman e se lei vuole Superman, io non posso esserlo, ha confessato il coreografo, sollevando dubbi su uno degli amori più longevi dello spettacolo italiano Ma cosa sta realmente accadendo tra i due? Enzo Paolo ha trascorso gran parte della puntata in confessionale, riflettendo sul suo futuro all'interno del reality e sulla sua vita personale Molti pensieri affollano la mente del ballerino, dalla sua condizione fisica, che sembra metterlo a dura prova, alla nostalgia per la figlia Maria, che sente profondamente durante la sua permanenza nella casa Tuttavia, i pensieri che più lo tormentano riguardano il suo rapporto con Carmen Russo, che sembra attraversare un momento delicato La coppia, sempre apparsa solida e unita, potrebbe ora trovarsi di fronte a una fase di riflessione importante, con Enzo Paolo che sente il bisogno di fare chiarezza sul futuro della loro relazione Nonostante questi dubbi, Alfonso Signorini ha cercato di spingere il coreografo a prendere una decisione, e dopo una lunga riflessione, Enzo Paolo ha finalmente fatto una scelta Io ho deciso di restare, ma ho paura di non farcela Ho tanta voglia di restare, ma se non mi sento in grado fisicamente di continuare la mia avventura, io te lo dirò faccia a faccia La decisione di Turchi di rimanere nella casa, nonostante le sue incertezze, è stata accolta con rispetto, ma resta da vedere come si evolveranno le dinamiche sia dentro il grande fratello che nel suo rapporto con Carmen Le prossime settimane saranno decisive per capire se Enzo Paolo riuscirà a superare questa crisi personale e continuare la sua avventura nel reality, o se deciderà di prendere una strada diversa